Ehi tu, tu che stai guardando questo video? Io conto su di te. Che vuol dire questo? Vuol dire che io conto che tu, dopo aver finito questo video, copierai il link e lo condividerai con un tuo amico. E a sua volta, a sua volta, tuo amico che ha visto questo link lo condividerai. Quindi ragazzi, io conto esattamente su di te, te, qua sta la telecamera, e che tu condivida questo video. Conto su di te.